salve ragazzi siamo di nuovo con la mia amica Enza e oggi faremo la ginnastica posturale con il rullo vi do un consiglio comprate il rullo garantisco garantisco veramente che farete delle lezioni incredibili e soprattutto come vi sentirete dopo il rullo è veramente favoloso per la postura per la colonna vertebrale per allungare più profondamente per fare delle lezioni variate ma soprattutto ci aiuta molto 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 sull'equilibrio molto e poi solo utilizzando il rullo con una posizione che partiremo dall'inizio la colonna vertebrale si distende si allunga si rilassa si rigenera il rullo è veramente favoloso ok bene allora ci sgraiamo proprio con la colonna vertebrale sopra il rullo allora appoggiamo così poi ci sdraiamo qual è la regola quando ci sdraiamo giù 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 bene ci appoggiamo che con la mano controlliamo che il rullo avanza vuol dire che la testa non può essere fuori dal rullo più giù ancora ancora più giù ok avanza un pochino il rullo sopra ok benissimo vedete se voi vi sdraiate sopra il rullo già questa posizione per noi è un immenso beneficio per la colonna vertebrale si distende proprio sopra il rullo abbiamo il lato destro che si abbassa del corpo lato sinistro si abbassa e percepiamo proprio con le vertebre il rullo le gambe sono aperte come larghezza delle spalle semplicemente cosa facciamo respiriamo non dobbiamo fare altro prendiamo l'aria sempre lentamente profondamente e silenziosamente e la buttiamo fuori uguale l'aria la prendiamo con il naso con la bocca chiusa e la buttiamo fuori con la bocca aperta e molto silenziosi giriamo la testa a destra percepiamo il rullo il mento non si avvicina verso il petto ritorna perché il mento qui è distante dal petto a sinistra distante dal petto e ritorno e ancora a destra espiriamo ritorno e a sinistra espiriamo e ritorno solo ora il mento su e ora lo invece avvicino verso il petto e l'aria fuori sollevo e avvicino ora facciamo una specie di giro con il naso a destra in alto sinistra e in basso e ancora a destra in alto sinistra e in basso ultima uno due tre ed espira andiamo a sinistra inspira l'aria fino al soffitto dal soffitto in poi espiri via sinistra e visualizza il naso che disegna il naso sinistra disegna il naso e poi espira e ancora ultimo giro inspira e abbassa e espira solleviamo le braccia verso il soffitto alziamo le spalle su mandiamo le braccia dietro abbassiamo le spalle e apriamo le braccia non tocchiamo il pavimento giù le braccia giù le braccia giù 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 lungo il busto giù stop sollevo le braccia uno verso il soffitto stop alzo le spalle due mando le braccia con le spalle così alte stop abbasso le spalle verso glutei non aprendo le braccia su verso glutei e poi apro le braccia e abbasso lungo il busto giù sollevo le braccia verso il soffitto stop alzo le spalle mando le braccia così ferma stop abbassa le spalle verso glutei no le spalle non le braccia le spalle le braccia sono dietro movimento delle braccia che si aprono e vanno giù verso il pavimento le braccia sul pavimento sollevo le braccia verso il soffitto alzo le spalle vado dietro con le spalle che sono verso le orecchie le spalle vanno verso i glutei sento il collo lunghissimo apro le braccia e abbasso giù lungo il busto sul pavimento alzo le spalle verso il soffitto e abbasso giù le spalle giù le braccia lungo il busto giù sul pavimento alzo le braccia alzo le spalle verso il soffitto e abbasso sento apertura alzo inspiro abbasso e spiro alzo inspiro e abbasso sento apertura e ancora sollevo e abbasso e spiro l'aria chiudo due gambe insieme alzo due talloni uno e abbasso giù alzo due e abbasso giù alzo tre e abbasso e ultima quattro abbasso all'incontrario alzo le piante dei piedi schiaccio i talloni e abbasso e l'aria fuori e abbasso sollevo l'aria fuori e abbasso e l'aria fuori e abbasso piego la gamba destra verso il petto stop piede a ballerina la stendo verso il soffitto otto volte uno e piego inspira due piego inspira l'aria fuori tre percepiamo la colonna vertebrale sopra il rullo e ancora quattro l'aria fuori inspira ancora cinque arriviamo a portare la gamba stesa e non alzata piegata piega 6 espira la gamba estesa e piega 7 espira e piega 8 espira piede a martello stop spingi la gamba otto volte verso la fronte 1 2 non abbassarla 3 ancora 4 5 6 7 stop piega chiudi la insieme solleva le gambe otto volte verso il petto via fuori l'aria le gambe sono piegate piegate e appoggia giù otto volte semplice l'aria fuori appoggia inspira l'aria fuori appoggia inspira 4 appoggia inspira 5 appoggia inspira 6 l'aria fuori ok ancora altre due 7 e abbiamo ultimo movimento 8 ok bene pieghiamo la gamba sinistra verso il petto e la stenderemo otto volte su via l'aria fuori non alziamo il bacino dai rullo giù piega la gamba 8 volte via 2 l'aria fuori piega inspira 3 piega inspira 4 piega inspira 5 ancora andiamo 6 l'aria fuori 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 ancora andiamo 7 ancora e ultima 8 stop piede a martello e spingiamo verso la fronte fuori l'aria inspira 2 inspira 3 4 5 6 7 7 8 pieghiamo le gambe insieme apriamo le braccia bene solleviamo le braccia verso il soffitto 1 e apriamo e appoggiamo 2 gira le mani gira di nuovo solleva 2 prendi l'aria apri e espira le gambe schiacciatissime 3 e apri e spira vai 4 schiaccia bene le ginocchia apri e spira benissimo 5 apri e spira 6 apri e spira altre due volte 7 apri e spira 8 stop mando le braccia dietro 1 e torno le braccia dietro 1 e torno inspirando l'aria dietro torno inspirando 3 torno inspirando le braccia lunghissime 4 schiaccia bene le mani torna ancora 5 espira e spira l'aria torna schiacciatissime le gambe 6 l'aria fuori torna mancano 2 volte l'aria fuori espira la pancia è sempre dentro torniamo ultima volta 8 torniamo apriamo le braccia e appoggiamo le mani sul pavimento solleviamo le ginocchia verso il petto le gambe sono piegate stendiamo 8 volte la gamba destra giù via fuori l'aria e torniamo non si tocca il pavimento 2 e piega 3 più bassa la gamba 4 allineata con il rullo 5 inspira 6 inspira 7 inspira stop giù 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 la gamba giù 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 più 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 fuori, martello inspira, ballerina fuori, martello inspira, ballerina fuori, martello inspira, ballerina stop, chiudi due gambe insieme, stop, il bacino è pari, la schiena è perfetta, il mento è dentro, la pancia è dentro, la gamba sinistra vai giù, alinea con il rullo e torna, inspira, due, torna, inspira, tre, l'aria fuori, inspira, quattro, inspira, cinque, alinea sempre, sei, l'aria fuori, inspira, sette, togli la pancia, percepisci il rullo, otto, stop, si sente il rullo con la colonna vertebrale, la gamba più bassa, piede a martello, tutti e due, ballerina, vai, martello, ballerina, tre, ballerina, quattro, non correre, ballerina, stop, chiudi le gambe insieme, stendi le gambe su, aprile otto volte via, fuori l'aria, chiudi, inspira, due, chiudi, inspira, tre, l'aria fuori, chiudi, inspira, spira, quattro, chiudi, inspira, ancora, cinque, ancora, andiamo, sei, ancora, sette, ancora, e ultima, otto, stop, pieghiamo le gambe e appoggiamo i piedi sul pavimento. Apriamo le ginocchia, posizione della rana, uniamo le piante dei piedi, bene, cominciamo a sollevare solo il bacino su, dai rullo uno, non tutta la schiena, giù, 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 e abbassa il bacino, solo il bacino, due, e abbassa, ok, tre, mi raccomando, la pancia non esiste, quattro, e ancora, cinque, movimento del bacino, sei, svuotiamo completamente la pancia, sette, e abbiamo ultima volta, otto, benissimo, risucchiamo la pancia, le gambe vanno verso il viso, otto volte i piedi salgono, via, uno, e abbassa, ok, l'aria fuori, due, e abbassa, benissimo, l'aria fuori, tre, e abbassa, benissimo, quattro, e abbassa, cinque, l'aria fuori, abbassa, benissimo, sei, piedi uniti, le ginocchia larghissime, sette, l'aria fuori, benissimo, e rimani su, stop, unisci le piante dei piedi, respira, piccolissimi movimenti a destra e a sinistra, uno, due, tre, quattro, benissimo, 5, 6, 7, 8, torniamo in centro, le ginocchia larghissime, appoggiamo le piante dei piedi sul pavimento, le gambe larghe, 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 abbassiamo le ginocchia, apriamo la gamba destra, fuori, uno, chiudiamo, semplice, cambiamo, due, chiudiamo, semplice, tre, cerchiamo di fermare il bacino, quattro, fermiamo il bacino, cinque, respiriamo, sei, bacino pari, senti sopra il rullo, 7, abbiamo ultima, 8, chiudiamo due gambe insieme, precise, perfette, benissimo, respiriamo, stendiamo la gamba destra giù, la sinistra giù, unite insieme, benissimo, schiacciamo due gambe insieme, proviamo a sollevare il braccio destro verso il soffitto, uno, e abbassiamo all'altezza del petto, vai sinistro, due, e apriamo e abbassiamo, bene, solleviamo destro, uno, e abbassiamo, sinistro, due, benissimo, e abbassiamo, stop, piedi a martello, schiacciamo le gambe, sentiamo la schiena sopra il rullo, braccio destro verso il soffitto, uno, e torniamo, ispirando, cambiamo, due, torniamo, ispirando, via, tre, cambiamo, ultima, quattro, benissimo, stop, piega la gamba destra verso il petto, uno, martello, spingi laggiù, due, cambia, uno, prendi l'aria, spingi e spira, piega, inspira, stendi e spira, piega, inspira, stendi e spinge martello, ancora, prendi l'aria, e poi espira, ultime due, l'aria, ed espira, ultima, l'aria, ed espira, chiudiamo due gambe insieme, martello, 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 schiacciamo la schiena, uno, lasciamo la libera, schiacciamo due, buttando fuori l'aria, lasciamo la libera, prendiamo l'aria, schiacciamo martello, tre, e lasciamo libera, ultima, ultima, quattro, libera, piedi a ballerina, apriamo le gambe come larghezza delle spalle, e abbassiamo le braccia giù, apriamo le braccia strusciando sul pavimento, uno, le mandiamo dietro, non tocchiamo il pavimento, solleviamo verso il petto, su le braccia al soffitto, e abbassiamo giù, tocchiamo il pavimento, altre tre volte, apriamo, strusciamo sul pavimento, dai, 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 leva la pancia, leva, 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 sulle braccia verso il soffitto, e abbassiamo, espiriamo l'aria, chiuse le braccia giù, giù, altre tre volte, due volte, apriamo le braccia, strusciamo dietro, 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 tutto il giro, 360 gradi, verso il soffitto, e poi abbassiamo, e ultimo viaggio, apriamo, dietro, dai, 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 stira la schiena, stira, verso il soffitto, e abbassiamo giù, apriamo le braccia, la mano destra prende il ginocchio sinistro, espiriamo l'aria, tiriamo su, cambiamo, e appoggiamo, via, due, espiriamo l'aria, cambiamo, prendiamo l'aria, tre, espiriamo l'aria, cambiamo, benissimo, quattro, espiriamo l'aria, cambiamo, andiamo, cinque, espiriamo l'aria, torniamo, sei, espiriamo l'aria, mancano due ripetizioni, sette, l'unghia dei piedi, le dita ballerina, e vai giù, e ultima, otto, e giù, pieghiamo le gambe, appoggiamo i piedi, ok, ci mettiamo a sedere, sopra il rullo, comodamente, bene, i piedi più avanti, le gambe sono aperte come larghezza delle spalle, bene, ok, abbiamo le mani sopra le ginocchia, scivoliamo dietro metà strada, sentiamo il rullo, uno, e saliamo, inspirando, più lunghi, bene, dietro, sentiamo come appoggiamo la schiena, fino a giro vita, stop, e saliamo, più lunghi, incolliamo i piedi sul pavimento, andiamo senza la pancia, dentro la pancia, dentro, 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 rilassa le spalle e il collo, sali, non andare troppo, su, dritta la schiena, di nuovo, scivoliamo, metà, solo metà, fino a giro vita, stop, e andiamo su, espiriamo, andiamo fino al fondo, giù, appoggiamo la testa, saliamo con la testa, muoviamo il collo e andiamo più su, espiriamo l'aria, mettiti a sedere un pochino più avanti, perché la testa sfora, perfetta, bene, vai dietro, piano piano, appoggia la testa, ok, muovi la testa, il collo e le spalle a sedere senza la pancia, su, 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 altre due volte, via, scivoliamo dietro, benissimo, appoggiamo, solleviamo la testa, espiriamo, su, ultima volta, scivoliamo, giù, 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 appoggiamo e torniamo, su, 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 completamente dritti, stop, bene, scendiamo dai rullo, ok, bene, ci mettiamo a sedere davanti, pieghiamo la gamba destra avanti, la sinistra dietro, ok, facciamo posizione che il piede destro tocca il ginocchio sinistro, ecco, l'altra gamba piegata dietro sinistra c'è il piede a ballerina, prendiamo il rullo con due mani, lo appoggiamo sul lato destro e guardiamo proprio a destra, ok, prendiamo il rullo lateralmente, lo prendiamo, ok, solleviamo il rullo verso il soffitto, uno, giriamo avanti, due, giriamo a sinistra, tre e lo abbassiamo, quattro, benissimo, solleviamo, uno, giriamo, due, a destra, tre e abbassiamo, quattro, di nuovo, solleviamo, giriamo, sinistra e abbassiamo, e ancora, solleviamo, giriamo, a destra e abbassiamo, stop, appoggiamo le mani sopra il rullo e spostiamo il rullo avanti con le mani, andiamo giù, espiriamo l'aria, torniamo, utilizziamo il rullo, di nuovo avanti, espiriamo l'aria, stendiamo la schiena, torniamo, inspiriamo, espiriamo l'aria avanti, giù, e torniamo, inspiriamo, su, 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 completamente dritti, torniamo avanti, e cambiamo incrocio, vai, ok, prima prepariamo le gambe, il vostro piede sinistro tocca il ginocchio destro, il bacino dovrebbe essere pari avanti, come le spalle, chi ce la fa, i glutei toccano il pavimento, prendiamo il rullo, lato sinistro, guardiamo a sinistra, solleviamo il rullo, prendiamo l'aria, giriamo, a destra, abbassiamo il rullo, rilassiamo, solleviamo uno, giriamo avanti, crescendo, a sinistra, crescendo, e abbassiamo, la schiena sempre su, sulla schiena, rullo su, la schiena più su, la schiena più su, girati verso di me, la schiena più su, gira a destra, di più, e abbassa il rullo, la schiena cresce, non abbiamo la pancia, su, il rullo, la schiena su, gira a sinistra, e appoggia le mani sopra il rullo, vai avanti, espira l'aria, stendi la schiena, le spalle sono pari, torna, inspira su, vai avanti, espira l'aria, torna, inspira, vai avanti, espira l'aria, di più, torna, inspira, e ultima, espira l'aria, dai, 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 torna, inspira, benissimo, torniamo avanti, mettiamo il rullo sotto le ginocchia, le gambe sono aperte come larghezza delle spalle, le gambe stese, ok, apriamo le gambe come larghezza del rullo, un po' più là, aperte, bene, e il rullo abbiamo sotto le ginocchia e abbiamo proprio le gambe piegate, pieda ballerina, so, no, no, appoggiate, appoggiate, apriamo le braccia, solleviamo verso il soffitto, stop, andiamo a stendere le gambe, via, fuori l'aria, uno, pieghiamo, inspira, stendiamo ballerina, due, pieghiamo, inspira, stendiamo tre, pieghiamo, inspira, quattro, stop, apriamo le mani, uno, tocchiamo due i polsi, apriamo tre e chiudiamo i polsi, di nuovo, apriamo uno, tocchiamo, apriamo non troppo e chiudiamo, di nuovo, apriamo uno, la schiena cresce, la schiena cresce, apri e chiudi e ancora, ultima, uno, tocca, apri, chiudi, allunga su, piedi a martello, stendi le gambe, quattro, inspira, tre, inspira, due, inspira, uno, stop, apri le braccia, appoggia dietro e cambia la posizione, vai dietro completamente, piedi a martello, le gambe, torna la testa, vai con le braccia avanti, più lontano possibile, le mani sul pavimento, sali curvando, piedi a ballerina, le braccia vanno dietro, appoggia sul pavimento, inarca la schiena, il bacino va dietro, le spalle vanno dietro, la testa va dietro, la pancia sparisce, piedi a ballerina, prima si muove la testa, poi andiamo avanti con le braccia, più lontano possibile, le mani sul pavimento, piedi a martello, la terza volta andiamo dietro, bene, nascondiamo le braccia completamente, apriamo il petto, le spalle si chiudono, il bacino va dietro, la testa va dietro, senti la gola, la tiroide, la tiroide, la tiroide, torna la testa, vai avanti, martello spinge, più lontano possibile, non alziamo le braccia ma le mandiamo semplici avanti, giù la testa, piedi a ballerina, saliamo curvando, le braccia semplici prepariamo dietro, spingiamo il sedere dietro, le spalle dietro, la testa dietro, torna la testa e le braccia avanti, espiriamo l'aria, giù 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 giù, andiamo a prendere la caviglia destra, uno, bassissimi, con due mani, due mani, alziamo il braccio destro verso il soffitto, lo guardiamo, torniamo, più chiusi verso la gamba destra, la prendiamo e andiamo verso la gamba sinistra, completamente chiusi, prendiamo la caviglia, il petto è sopra la gamba sinistra, sopra, giriamo il braccio verso il soffitto, espiriamo l'aria, torniamo, prendiamo la caviglia, e andiamo più giù di prima, sopra la gamba sinistra, andiamo a destra, due piedi a martello, prendiamo avampiede, tiriamo avampiede, siamo sopra la gamba destra, apriamo il braccio destro verso il soffitto, giriamo la testa, le spalle, torniamo a prendere avampiede, ci chiudiamo di più, andiamo più bassi possibile a sinistra, prendiamo avampiede, andiamo giù, chiudiamo la testa, alziamo il braccio sinistro, giriamo, 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 e torniamo, appoggiamo, chiudiamo di più, martello, tiriamo, 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 andiamo avanti, stendiamo due braccia, e saliamo piano piano, 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 bene, andiamo, ci mettiamo quadrupedia sopra il rullo, con due ginocchia, profilo, di profilo, benissimo, perfetto, ok, bene, due gambe chiuse insieme, piede a ballerina, ballerina, andiamo, aprire la gamba destra lateralmente, uno, e la chiudiamo, due, sinistra, due, e chiudiamo, via, cambiamo, tre, e chiudiamo, quattro, e chiudiamo, cinque, e chiudiamo, sei l'aria fuori, chiudiamo, sette l'aria fuori, chiudiamo, le braccia stese, otto, stop, e ora stendiamo le braccia, ruotiamo gomiti dentro, le braccia stese, stese, no, come erano prima, allarga le dita delle mani, e ora i gomiti ruotano dentro, uno, dentro, ruotano, non muoviamo le mani, poi ruotano liberi i gomiti, ruotano dentro, e poi si rilassano, ruotano dentro, e poi girano, quattro, gira, percepisci il movimento nella scapola, cinque, e lascia, ruotano sei, e lascia, sette, lascia, otto, stop, stendi la gamba destra dietro, su, stop, martello, prendi l'aria, ballerina butti fuori, martello l'aria, ballerina fuori, martello l'aria, ballerina fuori, alza la gamba otto volte su, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, chiudi insieme, stringi glutei uno, e sedere a papera su, due, stringi glutei uno, e sedere sale, stringi glutei forte, e sale, stringi glutei forte, e sale, torna la schiena dritta, stop, addominali dentro, contratti, gomi tirano dentro, alza la gamba sinistra su, stop, martello, ballerina, martello, ballerina, martello, stop, alza la gamba otto volte, uno, due, percepisci glutei, tre, senti, quattro, cinque, sei, sette, otto, chiudi insieme, stringi glutei forte, uno, e lascia, solleva il sedere verso il soffitto, due, e poi lascia, tre, e lascia, ultima volta, quattro, lascia, apri le gambe come larghezza delle spalle, allarga molto le braccia, allarga, 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 non spostarle le braccia avanti, non spostarle le braccia, le mani sono dove erano, dove erano le spalle, gira le mani, aprile, fuori, bene, carica le braccia, vai più avanti, no, non piegare le braccia, sposta il peso avanti, stese le braccia, no, le braccia stese, carica le braccia un po', stop, 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 le braccia stese, ora, leva la schiena inarcata, risucchia la pancia, la schiena è dritta, risucchia la pancia, stop, siamo ingessati, noi possiamo solo piegare i gomiti, via, piega solo i gomiti, ma non muovi la schiena, su, due, rilassa il collo, non alzare la testa, tre, stringi la pancia, quattro, non muovere la schiena, cinque, non muovere la schiena, sei, bloccatissima la schiena, sette, addominali dentro, otto, stop, chiudi le braccia nella quadrupedia, bene, le gambe aperte un po' di più, bene, il tuo ginocchio sinistro andrà verso il braccio destro, via, uno, torna, due, torna, l'aria fuori, tre, e appoggia sopra, quattro, appoggia sopra il ginocchio, vai, cinque, il collo lungo, sei, l'aria fuori, torna, sette, torna, ultima, otto, stop, curviamo la schiena, dai, 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 spingi 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 inarca su 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 ancora una volta dai 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 chiudi stringi glutei la fronte tocca il pube il pube tocca la fronte leva la pancia e cambia su bene così torniamo dritti stop gomiti ruotano dentro e il ginocchio destro verso il braccio sinistro 1 torna perfetto 2 benissimo 3 bene perfetto 4 ok 5 benissimo sei l'aria fuori ok se ultima 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 8 stop curva la schiena dai 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 stringi glutei ballerina 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 cambia e allunga il sedere sale leva la pancia leva 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 e ultima chiudi benissimo e vai 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 brava torniamo dritti stop scendiamo dal rullo ci sdraiamo con la schiena giù sul pavimento ok le gambe piegate mettiamo il rullo sotto il bacino alziamo prima il bacino non i piedi no alziamo il bacino mettiamo il rullo sotto ok le gambe sono aperte come larghezza delle spalle bene percepiamo che abbiamo il bacino pari è facile perché pari è facilissimo perfetto alziamo il bacino 1 e lo appoggiamo ok alziamo due streggiamo glutei e appoggiamo bene andiamo su e abbassiamo perfetto e ultima su e abbassiamo chiudiamo due gambe insieme solleviamo verso il petto chiudi 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 le ginocchia chiudi 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 teniamo il rullo abbassa i piedi abbassa i piedi bene respiriamo 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 stendiamo la gamba destra giù non tocchiamo il pavimento giù facciamo gli scambi via l'aria fuori uno scambiamo via due scambiamo tre vai quattro cinque sei sette otto chiudiamo due gambe insieme insieme pieghiamo le gambe verso il petto stendiamo la gamba sinistra giù martello scambiamo via l'aria fuori uno bene due tre via quattro cinque sei sette otto chiudiamo due gambe insieme piedi a valerina stendiamo le gambe verso la fronte uno le prendiamo con due mani tiriamo prendiamo le gambe e le chiudiamo prendiamo le caviglie prendiamo verso la fronte non stacchiamoci dai rullo non stacchiamo ora le braccia vanno dietro stese le gambe vanno giù a 45 gradi abbassa giù 45 gradi giù butti fuori l'aria apri le gambe uno chiudi due apri uno chiudi due solleva le gambe verso la fronte piedi a martello prendi le caviglie e spira l'aria le gambe chiuse insieme non stacchiamo niente dal rullo le braccia dietro stese aperte come larghezza delle spalle e le gambe vanno giù 45 gradi piede a martello svuotiamo la pancia non respiriamo con la pancia apriamo le gambe uno chiudiamo due apriamo uno chiudiamo ultima volta uno chiudiamo abbracciamo due ginocchia due piedi a ballerina espiriamo l'aria il mento dentro la pancia è dentro prendiamo il rullo lateralmente bene solleviamo le gambe verso il soffitto 90 gradi abbassa ancora 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 stop le gambe vanno a destra ma stacchiamo il bacino vai stacchiamo il bacino strizziamo la pancia che non c'è e torniamo inspirando sinistra espiriamo l'aria controlliamo la lunghezza delle gambe torniamo i talloni si toccano a destra espiriamo l'aria e torniamo a sinistra espiriamo l'aria e torniamo tocchiamo i talloni a destra espiriamo torniamo e a sinistra espiriamo e torniamo e ancora a destra e torniamo le gambe vanno verso la fronte prendiamo la gamba destra con due mani e abbassiamo la gamba sinistra giù 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 facciamo lo scambio 1 stop scambio 2 stop 3 fuori l'aria 4 fuori l'aria 5 fuori 6 fuori 7 stretching ultima 8 stop 2 gambe verso la fronte appoggia le mani sopra il rullo e sopra sopra ok toccano le gambe dietro qui vai su toccano tornano stop via 2 fuori l'aria tornano 3 fuori l'aria tornano ballerina 4 fuori l'aria torna non alzare le gambe stop non alzare martello tocca 1 fuori l'aria torna non alzare via 2 torna 3 l'aria fuori torna e ultima 4 torna piega le gambe appoggia i piedi sul pavimento bene togli il rullo no no piedi sul pavimento togli il rullo appoggi la schiena stop e godi questo momento e godi questo momento percepisci la schiena che molto rilassata molto più lunga aderisce tranquillamente andiamo su a sedere piano piano ok appoggiamo il fianco destro sopra il rullo e il gomito destro sul pavimento siamo di profilo davanti qui ok bene fianco il gomito troviamo questa posizione e alziamo due gambe che non toccano il pavimento su 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 alligniamo alziamo molto fianco destro sopra manteniamo oggi le mani sul pavimento andiamo alzare la gamba sinistra su uno niente altro benissimo fuori l'aria la prendiamo tre benissimo quattro bene cinque ok sei benissimo sette la schiena dritta otto stop proviamo appoggiare la mano sinistra sopra la gamba sopra e andiamo su e allunghiamo bene torniamo e appoggiamo via di nuovo due ok torniamo non abbassiamo troppo cerchiamo di allineare tre allineare le spalle pari torniamo e le gambe un po più su quattro e torniamo appoggiamo la mano giriamo la testa a sinistra e proviamo a salire verso la gamba uno guardiamo a sinistra due saliamo ovunque possiamo non importa guardiamo sempre a sinistra tre le gambe allineate dietro quattro stop benissimo cambiamo il fianco dall'altra parte prepariamoci con calma piano piano ok cerchiamo di avere le gambe allineate con la colonna vertebrale e la testa ok solleviamo il fianco di sotto per avere le spalle pari il collo rilassato alziamo la gamba via uno bene due bacino è fermo tre addominali sono contratti quattro la pancia è dentro 5 inspira 6 inspira 7 perfetto 8 stop il braccio giù e andiamo su e mi allungo torno e appoggio ancora l'aria fuori torno e inspiro l'aria fuori torno e inspiro ultima l'aria fuori torno sto giro la testa profilo e voglio un po scivola la mano 1 ok e scivola 2 benissimo e 3 ultima 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 4 benissimo scendiamo dai rullo ci mettiamo a sedere davanti mettiamo il rullo sotto i tendini i talloni sono fuori le gambe chiuse insieme andiamo su apriamo le braccia inspiriamo e andiamo avanti prendiamo il rullo e ci chiudiamo usiamo il rullo vai saliamo di nuovo curvando su apriamo e inspiriamo avanti e andiamo su e espiriamo ultima volta saliamo e inspiriamo andiamo avanti prendiamo il rullo rimaniamo giù manteniamo la posizione di stretching respiriamo piano piano rilassiamo il corpo quando sentiremo la necessità piano 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 ci alzeremo